Lotta alla povertà grazie al campo lavoro missionario, 170.000 sacchi in distribuzione in altrettante abitazioni attraverso 7 centri di raccolta di cui 2 a Rimini e altri 5 tra Riccione Cattolica, Bellaria, Sant'Arcangelo e Villa Verucchio. Oltre 7.000 gli studenti coinvolti in azioni educative per comprendere e rimuovere le cause della povertà. Questi numeri della 39esima edizione della grande raccolta umanitaria in programma sull'intero territorio della Diocesi di Rimini sabato e domenica. Quest'anno gli aiuti principali andranno a missionari che operano in Etiopia, Costa d'Avorio, Zambia, Camerun, Bolivia più una quota riservata alla Caritas Diocesana per aiutare le famiglie riminesi che si trovano in difficoltà economiche. Sempre sui temi collegati alle finalità del campo ci sono anche e spiegano le iniziative rivolte ai giovani in programma durante la Due Giorni. Per i più piccoli a Rimini, Riccione e Sant'Arcangelo verranno organizzati i laboratori creativi per la costruzione di oggetti utilizzando materiali di recupero mentre saranno rivolti ai ragazzi più grandi gli incontri proposti dall'Ufficio per la Pastorale Giovanile per la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù. Infine una segnalazione per la grande lotteria del campo, 32 mila biglietti già in vendita a 50 centesimi l'uno e i tradizionali mercatini dell'usato che anche quest'anno verranno organizzati in tutti i centri di raccolta con i materiali ancora in buono stato. Indumenti, oggetti per la casa, elettronica, libri, giocattoli, biciclette. Tutto questo per gli amanti del vintage oppure di chi semplicemente vorrà portarsi a casa per pochi soldi oggetti ancora utilizzabili.